Neanche il tempo di riflettere sugli errori commessi che è già tempo nuovamente di campionato. Il calendario della Superlega infatti propone un turno infrasettimanale che per certi aspetti potrebbe far bene la tono calipo Vibo Valencia, reduce da tre sconfitte consecutive. La squadra di Valdo Cantor non ha ancora ingranato nel massimo campionato e si trova a quota zero in classifica con un solo set vinto e nove persi. L'impatto con la Superlega quindi ancora sta pesando sulla squadra calabrese, ma il match di mercoledì sera potrebbe essere una nuova occasione di riscatto. I vibonesi giocheranno a Milano contro un'altra squadra che staziona nelle zone basse della classifica e che ha avuto un calendario molto simile a quello del sestetto calabrese. Entrambe hanno giocato con una big, Trento per Vibo e Modena per Milano. Entrambe hanno giocato e perso 3-0 contro Monza. Entrambe hanno affrontato Molfetta. L'unica differenza è che Vibo ha perso 3-1, mentre i Lombardi hanno vinto con lo stesso punteggio. Da qui la differenza in classifica che vede Milano quota 3, mentre i calabresi sono ancora secco. Giudicare una squadra dopo sole tre giornate sarebbe ingiusto e probabilmente anche sbagliato. Tuttavia bisognerà provare a rimettersi in corsa molto presto per ben figurare in questo campionato, anche perché domenica prossima al Palavalencia arriverà Perugia e Zaysef e Compagni non faranno certamente sconti.